Liberamente, percorsi di formazione e interventi sulla resilienza, un'esperienza nei territori palestinesi. E questo è il titolo di un progetto di cooperazione decentrata promosso dalla Regione e implementato nei territori dell'autorità nazionale palestinese. All'iniziativa hanno aderito la provincia di Nuoro e l'Università di Cagliari. Stamattina in città, nella sala consigliare della provincia, sono stati illustrati i risultati dell'intervento che ha coinvolto una ventina di ex detenuti politici e le loro madri. Tra i relatori Marta Longo e Mustafa Kosok si. Quali sono i punti fondamentali di questo intervento in Palestina? È un progetto di formazione, intervento e ricerca nel campo della salute mentale che va a intervenire sui ex detenuti giovani palestinesi, ex detenuti politici e le loro madri. Formazione per professionisti palestinesi è sempre di salute mentale. Il progetto ha coinvolto, come dicevo, diverse utenze, sia professionisti che persone, clienti, sarebbero ex detenuti e le loro madri. Abbiamo coinvolto più di 20 professionisti palestinesi di salute mentale. Siamo riusciti a raggiungere quindicina di ex detenuti direttamente e almeno altre trentina indirettamente attraverso i nostri professionisti che abbiamo formato lì. E siamo riusciti anche a coinvolgere almeno una ventina di madri direttamente e una quarantina indirettamente. Questo in particolare con la Palestina è da ritenere un progetto fondamentale per far conoscere gli gravi squilibri che ancora regnano nel mondo. E noi come regione Sardegna, come territorio sardo, diamo il nostro piccolo contributo per il superamento di questi grandi squilibri.